Com'è un po' citato, eh? 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 E gli stai già di vincere, eh? Prima di partire. Allora, per favore, lasciate spazio a una quantina. Abbiamo una quantina, eh? Questa me ne do già un applauso sopra, perché è salita sopra, eh? Grazie! Complimenti! C'è, c'è, c'è chi ha coraggio, eh? Allora, arriviamo anche il quinto, signori? Fatemi il corsa, benissimo! Pronti? 3, 2, 1, via! Entету? Allora, adesso con i giorni? Allora C'è, c'è, c'è... oltre oltre a posto Allora arrivare!